Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui a portarvi un nuovo squad builder e un ennesimo squad builder argento perché sì, vi ho portato una squadra veramente devastante, cioè probabilmente una delle squadre argento più forti che io abbia mai fatto perché è ad avere un attacco strepitoso che penso avrete già intuito dalla miniatura direi di partire subito dicendo che ho utilizzato il 4-1-2-1-2, quello normale, che non è il mio modulo preferito perché ci sono quegli esterni che sono inutili secondo me, però comunque sia un buon modulo andiamo subito con il portiere, impostiamo argento, se no ci mettiamo 3 anni e mezzo allora in porta ho usato Cassio, detto Cassio, che è un buon portiere perché comunque ha delle buone statistiche soprattutto di piazzamento e riflesso è buono, abbastanza alto, cioè ci sta come altezza non ha un grande tuffo, infatti delle volte fa un po' fatica a quando si deve tuffare però tutto sommato è un buon portiere, costa decisamente poco non chiedetemi come abbia fatto a fare quell'uno di assist lì perché non lo so poi, terzino destro, grande Klein, ce l'ho anche versione Team of the Season purtroppo non è argento, bensì oro, quindi non posso utilizzarlo però Klein è veramente un top terzino perché è forte in tutto, anche nel dribbling abbiamo fatto tra l'altro un gol, quindi pollice in super Klein perché è davvero un top difensore tra l'altro io l'ho preso tanto tempo fa, adesso non so quanto costa probabilmente raga in questa squadra ci sono dei giocatori estinti e quindi non si possono trovare però vabbè con un po' di ricerca piano piano si riescono a trovare tutti poi vediamo, ho utilizzato Marcelo, questo qui come difensore centrale che gioca a destra che è buono, non fatevi ingannare dalla carta non rara, è davvero un buon centrale perché è abbastanza veloce, è buono in difesa e fisico, quindi ve lo consiglio poi come difensore centrale di sinistra ho utilizzato Chico che lui purtroppo è estinto, cioè se ne trovano uno ogni morte di papa bisogna stare lì a aggiornare per una decina di minuti e più o meno lo trovate se no in alternativa potete usare Duglao, quell'altro difensore brasiliano che è molto molto simile a Chico, quindi lui si trova più facilmente comunque Chico è forte perché difese e fisico sono due statische da oro praticamente inoltre è alto con un work rate perfetto per un difensore centrale e una quasi buona velocità, nel senso che si avvicina al 70, comunque abbastanza buona rendono questo difensore veramente molto forte certo se vi beccate quello con 95 di velocità di turno fa un po' fatica ma è normale infine per completare la difesa come terzino di sinistra ho utilizzato Telles questo terzino del Galatasaray, molto buono con anche un buon passaggio un discreto tiro dalla distanza, anche abbastanza buono quindi davvero un buon giocatore questo qui perché è comunque forte in tutto come unico centrocampista difensivo ho utilizzato Allan potete anche usare, no non potete usare la versione del Napoli solo questa qui dell'Udinese un assist in quattro partite direi che è buono per un CDC certo è l'unico difensore, l'unico centrocampista anziché difende quindi non è facile fare reparto da solo però Allan ci riesce abbastanza bene purtroppo non ha un passaggio bellissimo quindi a volte nelle ripartenze fate un po' fatica però Allan veramente ricopre bene il suo ruolo poi esterno di destra ho utilizzato il grande Dyer potete comunque utilizzare penso qualsiasi esterno di destra o ala di destra inglese che gioca in Premier League ovviamente molto buono, come esterno è perfetto perché ha worket alto alto quindi attacca e difende mi è piaciuto anche se, ripeto, gli esterni in questo modulo sono pressoché inutili perché non servono a nulla secondo me però comunque sia quando ha la palla lui è veloce quindi salta gli avversari anche un buon tiro, un ottimo dribbling, 4 stelle abilità quindi ben venga, ottimo giocatore dall'altra parte un giocatore totalmente inutile non solo per il ruolo ma anche perché proprio il giocatore è inutile che adesso hanno lo passato Torge, questo qui dell'Udinese, è rumeno si è rumeno è inutile perché non ha niente di speciale cioè magari è un discreto anche il giocatore però non ha niente di speciale quindi non ve lo commento neanche perché ragazzi è praticamente inutile come ho già detto poi CoC, il grandissimo Morrison no non questo ovviamente è la versione della Lazio che ho utilizzato anche nell'altro squad builder che avete visto come CC da CoC è ovviamente più offensivo e quindi fa più gol mi ha fatto un paio di gol in 4 partite e forse ha proprio 4 assist o forse ha 3 assist non mi ricordo ottimo giocatore purtroppo delle volte sbaglia dei tiri anche abbastanza facili e questo un po' lo penalizza però è forte perché ha un ottimo passaggio è un ottimo dribbling questo mi è piaciuto anche un discreto long shot peccato che non segna spesso e infine la coppia che tutti stavamo aspettando cioè la coppia di attaccanti che ragazzi è clamorosa avete intuito già chi è come attaccante di destra ho utilizzato Agbon Lahore che mostruoso peccato che qui l'ho utilizzato più che altro da spalla diciamo da seconda punta per l'altro attaccante che è quello che fa più gol di tutti 9 partite 4 vabbè sarebbero 4 partite se non sbaglio ha fatto 3 gol ma non vorrei dire cazzate 3 gol in 4 partite più un sacco di assist ecco la cosa fenomenale di Agbon Lahore che fa un sacco di assist o almeno mi ha fatto un sacco di assist in questo modulo quindi ecco da AT o appunto da ATT accompagnando un altro attaccante è veramente forte e l'attaccante come avete capito è il grandissimo Muriel versione udinese se no non linka con Torje è fortissimo che dire 4 partite e 7 gol parlano da solo più un assist parlano da solo è velocissimo ha 4 stelle abilità tira di destra e di sinistro finalizzazione paurosa non sbaglia mai un tiro dribbling della madonna e basta è fortissimo ragazzi costa tanto è stinto cioè non se ne trovano sul mercato però se cercate bene ogni tanto li mettono al prezzo massimo 24.000 però vale la pena comprarlo perché è veramente fortissimo considerando che poi qualche mese fa costava 100.000 crediti per intenderci quindi raga se volete farvi questa squadra e se avete un po' di pazienza di trovare i giocatori estinti fatela perché non ve ne pentirete è veramente fortissima soprattutto il duo d'attacco è micidiale fate un sacco di gol come sempre vi invito a lasciare un bel like se la squadra vi è piaciuta 300 o 400 mi piace a vostra discrezione per il prossimo video sempre nei commenti fatemi sapere innanzitutto che video volete che vi porti e soprattutto qualche squad builder particolare che volete con qualche giocatore in particolare che appunto volete iscrivetevi al canale pagina facebook twitter e instagram tutti i link come sempre in descrizione vi lascio alle clip ci vediamo al prossimo video bella raga iscrivetevi al canale I can't see